Salve a tutti ragazzi ed eccoci tornati su Bioshockens Roma Eravamo qua pronti per acquistare aggiornamenti genetici L'ho fatto il bersaglio Ok, costo utile Ridicetut danni fisici I climatici ripistono anche i live Incrementa la salute massima Incrementa il live massimo 80 Faccio il furia E lo stosituisco No ma io voglio qualcosa in più Perché non posso mettere in banca genetica Pensavo Niente Ok, questo almeno Ok E ora che non ho più niente Quanto a denaro Andiamo Quella freccia non mi spira niente di buono Cioè Ok, obiettivo Devo ancora abituarmi Eccola lì Da tante decidi Che devo togliere Vai, forza E vorrei anche Ah, io ho prenduto Eh, spaglio sempre So perché non sento Scusi Venga pure Sono andato sul Devo affrontare Big Daddy Ciao Come stai? Scusi Non voglio farti Male Fusir Non voglio farti niente Però se non mi attacca E mi sa che mi tocca Cos'era quello Porca vacca L'ho perso, l'ho perso Non lo vedo più Porca vacca Non so cosa Non so cosa potrò Robo su la schiena Ma penso che Dovrò distruggerla Oh Gizu Sbagliato Oh no Non è impossibile Non è impossibile Andiamo, andiamo Ah ma è già Arranggiato bene Buona lì Cos'è che fa Quando Porca vacca Non trovo niente Oh Ce l'ho fatta Mamma mia Qua te la fai con 64 dollari Ti salvo Ora Prego ma Cercate di non andare in giro Con brutta gente Piuttosto Poi Ti ho con la siringa Non mi cominci per niente Ok Quindi ora Che si fa Ah Cosa Chi mi sta osservando Sì Non ho capito Perché Ho capito Cioè ho capito Non ho capito Un drone Scusi Dai Può fare un po' meno Indeficiente Poi Poi Che go Che go perché ho il pannello accesso d'emergenza sarà questo qua? cosa devo fare? accesso d'emergenza eh, quindi? quindi? non c'è un inventario mi sembra ah, forse qua? ok ah bene e sciuffala pesca ok quindi si va scusatemi eh non c'è non c'è ok Ok, andiamo, tiriamola questa leva, andiamo a stringere la mano Atlas, se i tuoi plasmidi non sono più efficaci, sono due nemici più forti, cercano le versioni migliorate, le versioni migliorate, interessante, molto interessante, farzaro, vorrei avanzare, grazie, salvataggio, contenuto, ok, salve, non sei Atlas, vero? Non fammi sorprese strane scusate, perché sicuramente mi interessano di più la tua voce che gli effetti scambaggioso di metri cinetici, cosa devo fare? Non ho capito. tonici fisici ah ho capito ok però voglio bloccare uno la cerchiamo ci mancava un po' se possibile vorrei farlo andare in su troppo tardi tu così tu bene fai così tu manda meno di qua dopodiché tu vai così tu vai così poi così e così facile e veloce ok ma però un kick medico tu dai non ridere di me proiettili lots and sounds e c'è nessuno no lei chi è scusi dica bene tre ok tu sai che striscia nel mio giardino scusa hai detto qualcosa oh qui c'è una una stradella non dire cose strane che non capisco niente dai devo riuscire a non farlo andare in giù porca così così devo riuscire a ok così poi così così poi cosi poi uno che fa in su cosi e alla fine uno cosi ok dai non me ne faccio niente noe sono diversi strabello mono inferiore non avvicinarsi a messore nene bravo devi sparare anche sto qua, sei pazzo? proletta l'antiuomo non so quanto sia con lui non so cosa mi ha lanciato ma mi sa che posso prenderli davanti grande grande vai spagli qualcosa dai però perché spari solo a me? vorrei sopravvivere a questa battaglia però eh dai non so cosa sia quella roba lì ma voglio evitarla più sì nooo nooo no ti prego non dimamelo perché c'è ok sai cosa? no ma non posso crederci che cosa Rebelda intanto è morto però ho avuto un giorni da nostro ultimo incidente incidente dopo cos'è cambiato haha scusi lei ti salvo tranquilla spara chiodi rosi si 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 cazzi tuoi sguarda l'adam più totale prego all'interno di un rossetto presso un gatherers garden scusi lei mi dica ah ma porca vacca pensavo fosse un signore ma c'era non voglio però cominciare così male ok perché 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 ero sicuro che fosse ero sicuro che cominciassi da lì come sempre te che si è utile poi no facciamo così e così e così ok chi parla con questa voce così la tua collera attenzione arriva il bullo perché mi ha ucciso così barbaramente manca munizione di tutto manca munizione di tutto vediamo se posso vediamo se posso no eh mi sa che è un momento di finire questa puntata molto meglio prima di fare altre idiozie non sono in vena oggi quindi Tomar ciao ciao